Sei su Voci.fm Nel viaggio di Voci.fm fra l'equipment di qualità per aiutarti ad allestire un uomo o un professional studio di livello non possiamo non sottolineare l'importanza di un cablaggio di livello Utilizzare cavi audio di ottima qualità per collegare tra di loro le apparecchiature è il passo fondamentale per ottenere un suono privo di ronzii Non a caso gli ingegneri di SMAP, San Marino Audio Project, da sempre leader nella vendita di materiale pro audio hanno realizzato un vero e proprio tool con il quale progettare direttamente online il cavo su misura per le nostre esigenze e riceverlo a casa in un attimo I veterani del Voice Recording ricorderanno intere giornate trascorse a scovare la causa di quel terribile fruscio che faceva da sottofondo alle proprie registrazioni Nonostante l'ambiente ben insonorizzato, la scheda audio e il microfono professionali e i processori tarati a puntino il suono non era in alcun modo pulito, fino a scoprire che dipendeva da un cavo troppo lungo o da un connettore di bassa qualità, magari saltato male E allora via alla caccia al tecnico più ricercato della città quello che non trovi mai in laboratorio proprio perché è il più ricercato per farsi preparare un cavo ex novo con quello che, a suo dire, e spesso solo a suo dire è il JackXLR Spicon migliore sul mercato Che stress! Per fortuna, parafrasando uno slogan molto noto nel nostro settore SMAP ha cancellato il passato Il web ci permette di informarci a 360 gradi sulle mille soluzioni possibili per ottenere buoni risultati da un cavo e quindi molto più semplice rispetto a qualche anno fa sapere quanto, in base alle apparecchiature da collegare vanno ad incidere lunghezza, sezione, tecnica di saldatura e modello dei connettori Una volta fatta chiarezza sulla scelta migliore per le nostre esigenze basta un clic su questo tool e in pochi secondi potremo realizzare online il cavo giusto per il collegamento della DAV dei monitor del microfono, eccetera Il software è stato concepito per guidare l'utente in ogni passo e può essere utilizzato anche da non esperti Inoltre, SMAP ha selezionato i marchi leader per qualità e affidabilità e permette di costruire un prodotto che unisca i connettori top al miglior cavo Si parte proprio da quest'ultimo scegliendo tra analogico e digitale selezionando marca e modello dei componenti, lunghezza e quantità Il tool elabora prezzo e tempi di consegna Il risultato è un cavo senza compromessi spedito direttamente a casa in pochi giorni Cablare il nostro studio in maniera precisa e personalizzata non è mai stato così facile e la differenza si sente Parola di Voci.fm Davvero complimenti a SMAP per l'idea per la semplicità d'uso e per la velocità di consegna